Ragazzi, incredibile! Allora, ci tengo a precisare, non voglio prendermi gli insulti qui sotto nei commenti Non ho visto la partita e darò un mio parere a caldo sugli ultimi 15-20 minuti che ho visto Uno Shakhtar super, onestamente Un Inter, posso permettermi di dire, in questa fase che ho guardato, addormentata Permettetemelo di dire, ragazzi E attenzione perché mancano due minuti alla fine E con adesso l'Inter che attacca, attenzione, con Danfries Danfries spinge, Danfries spinge Adesso qua, pallone indietro, fa marcia indietro, Danfries Quando siamo all'ottantanovesimo Che dire? Non so neanche io cosa dire, ragazzi Non so neanche io cosa dire Perché veramente è strano vedere così l'Inter E ancora l'Inter che fatica Che fatica in Champions League Fatica tanto ancora E attenzione, il tiro Fuori di molto, a dire il vero Il tiro da parte di Alexis Sanchez Faticano, ok Faticare contro Real Madrid Cioè, non faticare, ma Dominare, ma non vincere Ok, ci sta, è consentito Contro l'Inter Ma quando lo fai poi Con le Shakhtar Pubblico Ok, che forte la Shakhtar Donetskio Cioè, però Capisco tutto Ma non questo, onestamente Permettetemi di dire Amici Amici interisti Me lo dovete permettere Permettermi di dirlo E adesso l'Inter rischia Qua lo dico L'eliminazione Secondo me Cioè, non secondo me Rischia l'eliminazione Rischia l'eliminazione Due minuti e basta di recupero Una Lazio, ragazzi Che con De Zerbi Che conosci ovviamente La Lazio E l'Inter Proprio intero a Lazio Perché ci ricordiamo Che prima In Zeghi Anderava la Lazio Quindi Su stile di gioco Magari è leggermente cambiato Però Rimane più o meno lo stesso E un Inter Che Veramente Fatica tanto in Europa Ma già dall'anno Del triplete Permettetemi di dire Già da lì È iniziato a faticare Prima in Champions League Poi in Europa League E adesso stanno faticando Già da quattro anni In Champions League Sono ritornati Ma faticano È ancora tutto a decidere L'Inter Penso che speri In una vittoria Non so se al Real Oppure in un pareggio Perché Prima si punta al secondo posto Poi al primo Perché Forse il pareggio Forse il pareggio Perché Così il Real non scappa E lo Sheriff È a portata di mano Ma La vedo difficile È che lo Sheriff Pareggi Contro le Real Madrid E adesso qua 91esimo Con azione Dello Shakhtar Donetsk Attenzione qua Palla ancora Si gira Si va dietro Verso i difensori 40 secondi Per costruire Un'azione Allarga adesso La palla La palla Shakhtar Gli arancioni Che attaccano Nel loro stadio di casa Quindi anche quello Poteva essere L'agevolazione Però No ragazzi Permettetemi di dire Questa volta Ovevi fare Il risultato Ovevi farla A prescindere Di tutto Ovevi fare Il risultato Ancora qua Attacca Attacca l'Inter Attacca l'Inter Adesso Anzi Scusate O Shakhtar Poi brutta Questa maglia L'Inter Senza Biscione Che già fa schifo Col Biscione In più così Fa ancora più schifo 91 58 59 E adesso 92esimo Finisce Qua Perde Un'altra partita Perde Un'altra volta Ancora Anzi Pareggia Questa volta Prende il suo Primo punto L'Inter Contro Shakhtar Però non basta Bello Non basta Prende il suo L'Inter Un'altra partita Prende il suo